E invece Umberto Chiarillo che già sta scrivendo, io sono preoccupatissima quando scrive. I numeri sono tanti, perché a corroborare il primato in classifica, seppur 24 ore scarse di attesa, perché alle 18 gioca la Juventus sul campo dell'Inter e poi la sera gioca la Roma con la Fiorentina, in attesa di questi due risultati il Napoli è primo in classifica, ma i numeri sono tanti e importanti. Cominciamo a stabilire che Milic ha la terza doppietta in cinque partite, sei gol in cinque partite. Nessuno dei grandi centravanti degli ultimi anni del Napoli aveva avuto una partenza tanto folgorante, né Cavani né Higuaín stesso. Il Napoli in quattro partite, meno male che ha perso il fenomeno lì davanti, tanti rimpianti, non è arrivato Cavani che sembrava che con il ritorno del Matador il Napoli potesse dimenticare il campione argentino, ebbene il Napoli in quattro partite di campionato realizza ben 12 gol, alla media straordinaria di tre gol a partita che significano, se fosse questa la proiezione vera ma non sarà giocoforza da qui alla fine del campionato, 118 gol che sebbe un record straordinario. Il Napoli l'anno scorso ricordiamo che ha chiuso a 80 reti in campionato, 106 totali battendo il record di Benitez di 104 per due stagioni. Finisco con i numeri, è la quinta doppietta in questo inizio stagione di un calciatore azzurro. Ben due per Milic, ben due per... Anzi Milic abbiamo detto, sì in campionato ne ha fatte due, ben due per Cagliecon e una per Mertens. Insomma, va detto che il Napoli nella ripresa conferma poi la tendenza. Ha segnato due gol a Pescara, ne ha segnati due col Milan, ne ha segnati tre a Palermo, oggi altri due gol nel secondo tempo che hanno chiuso la partita. Cioè il Napoli nella ripresa strascia gli avversari e questo mostra la personalità di questa squadra che è, ricordiamolo, al quarto successo consecutivo, coppe comprese, terzo di campionato tra Milan-Palermo e appunto questa sera Bologna. Insomma, numeri tanti e tutti straordinari, fa solamente specie la difesa che continua a prendere troppi gol e in particolare sul banco degli accusati, questa sera ci va sicuramente il Pepe Reina con un gol che francamente fa ricredere sulle diottriche del portiere. A proposito dei numeri, lo ricordiamo, 081-630-999, mi trovo, le hai dati tu, le do qualcuno pure io. E tu solo vuoi il telefono, poi dai? Non il mio. Perché gli manderebbero insulti. Per gli insulti vanno bene, per me quello va bene. Per gli insulti me ne arriverebbero troppi. Allora, lo vedete anche in grafica, ci fermiamo. E allora, stavamo dando un po' di numeri. E finiamo i numeri dicendo che Cagliecon stacca Belotti e Bacca, è lo stesso Milik, in classifica cannonieri, portandosi a cinque gol in cinque partite. Capo cannoniere assoluto. Belotti non giocherà perché è infortunato, Bacca ha già giocato, quindi se non arriva qualcuno da dietro con una serie di gol che lo porti, specialmente uno di cui non faccio nomi, perché quello ha tre gol, quindi non lo nomino, Cagliecon si laurea per questo turno di campionato dopo cinque partite e capo cannoniere con ogni probabilità. A inseguirlo con Bacca e Belotti c'è appunto Arcadius, detto Armadius Milik, Armadius Milik che ha segnato finora molti gol di testa ma ha mostrato anche un sinistro molto educato perché questo di piede col sinistro stasera ha fatto vedere che ci sa fare, no Gennaro Scarlato? Assolutamente. Beppe diceva prima, è un giocatore che deve giocare. Lo scavento sul primo gol col taglio, con la... Io vado un pochettino più indietro, ha fatto un movimento. Perché voi hai ridato subito. Come è partito dalla tre quarti in su, ha detto ha fatto un movimento straordinario, manca a farlo opposta, Amsic gli ha messo una palla altrettanto straordinaria. Un po' di contagitiva. È stato bello il movimento, la palla e... E lo scavetto. È stato una cosa... Bellino, senza guardare la porta. Cioè, Beppe, tu che hai imbarcato gli attaccanti, quelli hanno una specie di cosa del naso. È stato tutto bello perché, sì, l'attaccante ce l'ha. Il famoso fiuto del gol è quello. Quello non ha guardato il portino, ha guardato la porta. E quando fai quei tagli, poi ti presenti davanti alla porta e fai quel pallonetto. Senza guardare. Senza guardare. Quello è... Da attaccante. Sei da grande attaccante. Sì, da proprio l'attaccante. Cioè, il famoso fiuto del gol. L'asile del grande attaccante. Grande attaccante. Poi la personalità del puntare l'uomo sul secondo gol, lì il portiere si è addormentato un po', però il sinistro è stato importante anche lì. Importante perché lui comunque l'ha cercato, perché è riuscito a liberarsi. Quel poco quando è riuscito a calciare. E quindi... Poi questo è entrato in campo? Non ha avuto esitazione. Io te l'ho detto, te l'ho detto dall'inizio. Non possiamo fare almeno. Facciamolo entrare perché... Io volevo fare i cambi conservativi perché mi aspettavo un Napoli. Non me ne voglia nessuno. Lo stesso Gabbiadini perché dispiace. Dispiace il ragazzo. Però... È uscito tra gli applausi. Questa squadra ha bisogno di questo centravante. Purtroppo bisogna dire così. C'è un piccolo caso del Napoli. Qualche errore ci è stato fatto all'inizio. Secondo me, come ti ho detto prima, io avrei preso immobile e avrei dato via a Gabbiadini. Perché sicuramente era più adatto al tipo di gioco. Poi intesa con Insigne. Sì, sicuramente. A proposito, c'è questo piccolo caso. L'uscita dal campo, Insigne voleva salutarlo, Gabbiadini l'ha un po' ignorato perché si erano beccati in un'azione dove Insigne non gli ha passato la palla ma probabilmente perché lo riteneva in fuorigioco. Era in fuorigioco. Comunque Insigne ha ragione. Però là si è arrabbiato Gabbiadini. Aveva ragione Insigne, ha ragione perché l'ha visto che era in fuorigioco e non gliel'ha data. Doveva dare un subito-subito. Però bisogna capire anche il ragazzo che è un momento particolare perché dopo... E questo dice che cazzo... Dopo un guadino trova un altro mostro. È un posto-subito. Dai, perché... Però dai, i movimenti da centravanti. No, assolutamente. E quello non riesce a sfruttare. Ha avuto un'occasione, Milicchi in mezz'ora ha fatto due gol. Cioè che Gabbiadini ha fatto solo una girata rapida col suo bel sinistro. Un giocatore che in questo momento sta giocando poco. Viene messo in un ruolo dove a lui non piace e fa un po' di fatica. Anche psicologicamente. Sì, psicologicamente. Poi, vedi, esce, magari non si aspettava che uscisse, entra Milic e fa quello che ha fatto. Io vorrei ricordarvi però, giusto per la cronaca, che nel Napoli, nel secondo tempo, quando il Napoli era in grande sofferenza sull'1-1 perché ci sono stati momenti in cui Peppe continuava a dire si è disunito, si è disunito, aveva paura che il Napoli potesse fare la frittata, un po' di stanchezza dopo la Coppa, giocare ogni tre giorni. Invece, Sarri ordina tre cambi. Sì. E scusate se è poco. Milic, 33 milioni. Goulam. Goulam. e Allan. Allan ha pagato quasi 18 milioni, Goulam ha pagato 5, ma oggi ne vale 25. Insomma, e in panchina c'aveva tant'altra roba. Comunque ha messo la forza che mancava in quel momento alla squadra. Cioè, ma ora la squadra che cambia. Perché ha messo il centroavante, ha messo Allan al centrocampo, che sappiamo. E poi quando Goulam va via sulla fascia sono dolori per gli avversari. è chiaro che poi anche Zerischi ha dato pure di più, perché comunque era sostenuto. Quell'Amsic capitano di centrale di centrocampo per Giorginio, è una innovazione anche questa. Ma io ho sempre detto che... Finirà così lui? Finirà così. Io credo che è il suo ruolo quello lì. Beh, come Pezzala, è fantastico. Vabbè, i piedi si conoscono. Vincerà anche quest'anno la classifica degli assist. La guerra è in famiglia perché anche l'assist di Insigne per Cagliaconda è stato eccezionale. Se non avessi mangiato un gol clamoroso, Insigne avrebbe fatto una splendida partita. Soprattutto nel primo tempo. Proprio tempo. Ma sai qual è, Alberto? Perché si interessardisce tante volte perché va troppo, vuole il gol, vuole il gol e poi va sempre sullo stesso lato. Ma il fatto che lui ha sbagliato quel gol, uno come lui non può sbagliare. Lì la deve poggiare, basta. Si vede che non è tranquillo pure lui. Adan aveva spaccato la difesa ma perché non è tranquillo? Perché di nuovo il posto che se lo gioca un po' più del solito con Mertens non vuole dimostrare. La sana competizione fa bene, fa bene proprio al Napoli e fa bene all'oro perché nessuno deve sentirsi assicurato il posto. Adesso veramente c'è una varietà. E poi, ritornando al gol di Galeon. Secondo me è una giocata molto ma molto ricercata sul fatto che l'esterno entra dentro e serve sul secondo palo l'altro esterno.